Che cosa potete fare? Sono un attivista per i diritti che lotta contro il caporalato e contro l' sfruttamento in agricoltura. Se uno vuole venire con me, prenda la sua croce e mi segua. Con questo progetto è qualcosa che va al di là delle regioni. Che ruolo ti piacerebbe interpretare? Anche la scena dei soldati, dove bicchiano Gesù. Noi non siamo un film, io organizzo le lotte. Siamo già stati sfruttati nel modo di lavoro dentro la campagna come schiavi. Dobbiamo iniziare questa nuova folia, la folia del cambiamento. Grazie a tutti.